Buongiorno dalla TGR Sicilia, oggi dunque la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Noi vi raccontiamo la storia di uno dei tanti operai, una storia emblematica, uno dei tanti che hanno trascorso la lunga vita lavorativa a contatto con l'Amianto e ne pagano ancora le conseguenze. Questa storia ce la racconta Eleonora Mastromarino. Ogni volta che vedo andare via qualche mio collega penso a quando potrebbe toccare a me, a chi potrà essere il prossimo. Calogero Vicario si domanda chi sarà la prossima vittima del killer silenzioso con cui lui e i suoi colleghi a Priolo Gargallo hanno lavorato per più di vent'anni. L'Amianto nelle industrie meccaniche siciliane era ovunque, gli operai non erano semplicemente esposti ma lo manovravano e poi lo portavano a casa. Veniva a contatto anche la moglie, anche i figli perché noi abbracciavamo anche i figli a casa. Ai tempi non sapevamo nulla della pericolosità dell'Amianto. Oggi siamo venuti a conoscenza dei rischi che abbiamo corso e l'Amianto oggi ce l'abbiamo tutti nei bronchi. La loro esposizione è stata accertata anche dal Tribunale di Siracusa nel 2018, sentenza poi ribaltata nel 2020 per un cavillo burocratico, che quindi ha lasciato Calogero e i suoi colleghi senza pensione, senza stipendio e spesso con patologie croniche e incurabili. Ho i bronchi pieni da mianto, ho un deficit respiratorio del 40% e per avere un minimo di diritto a livello di INAIL, di malattia professionale, mi è toccato fare i salti mortali. La battaglia di Calogero non si è infatti conclusa. Costretto a continuare a lavorare da due anni, cerca di ottenere un diritto che per i lavoratori di altri siti identici a quello di Priolo è già sancito dal 2008, in un decreto ministeriale che però non considera il sito siracusano.